Professore Sarica, domenica a Gessa, al Museo dei Polioritani, ci saranno delle grandi novità? Sì, ritorna e rivive meglio il pagliaro, l'antico ricordo rifugio dei nostri pastori. Ed è un ritorno particolarmente importante perché restituiamo e recuperiamo una dimensione perduta evidentemente in quanto la graduale scomparsa delle pratiche tradizionali ha di fatto azzerato tutto un patrimonio di cultura materiale di cui appunto il pagliaro era una delle espressioni più significative. Si tratta di una tipica costruzione dei pastori dei Monti Polioritani che forse si fa risalire al periodo anche preistorico? Esattamente, è un'eredità plurimillenaria. Nella nostra provincia, in particolare nell'isole Olia, a Calaiunco, a Panarea, a Capograziano, è possibile osservare questi villaggi dell'età del bronzo che in pratica sono stati adottati nel corso dei secoli dai nostri pastori. Con la classica pianta circolare fatta con un muro a secco e con la struttura conica realizzata con pali ovviamente di legno, il tetto invece si affidava alle fronde delle ginestre. Ecco, è stato realizzato questo pagliaro da due contatini di San Filippo Superiore. Quindi si tratta non di una ricostruzione filologica posteriore ma si tratta di una ricostruzione da parte di chi ha vissuto in prima persona questa esperienza del pagliaro. Questi due giovani sono esattamente Lio e Polo Vinci che hanno rispettivamente 82-83 anni ai quali poi si è aggiunto anche Santi Mangano che ha dato una grossa mano d'aiuto nel recupero dei materiali e nella costruzione vera e propria del pagliaro. E quindi domenica verrà ufficialmente presentato, saranno presenti pure adorevoli studiosi? Sì, esattamente. Domenica è una bella festa attorno al pagliaro. Ci sarà il dottor Sergio Dodesco che è il direttore del Museo Silvopastorale di Mistrette, ci sarà il dottor Riccobono nella qualità di storico del territorio peloritano, ci sarà anche il vice sindaco, l'onorevole Ardizzone e poi i suonatori di tradizione. Alcuni vengono da Galati, ma a Mertino dove sono ancora perfettamente attivi dei pagliari.